Una modifica al programma di sviluppo rurale è quello che chiede Agri Insieme alla Regione Campania, in particolare la misura 04 che punta su gli investimenti strutturali per rendere maggiormente competitivo il settore mediante la diminuzione dei costi di produzione o gli aumenti produttivi. Per Agri Insieme Campania il provvedimento non valorizzerebbe le scelte di riorganizzazione aziendale delle imprese ispirate alle scelte di strategia e occupazione di Europa 2020. Ascoltiamo Rosario Rago, presidente Confagricoltura Campania. Bisognerà riguardare un po' la situazione e sistemare un po' meglio quelle che sono alcune misure tipo la misura 04. La misura 04 e la misura 06 che sono le misure di investimento vanno riviste perché come sono oggi sono poco attuabili in alcuni tipi di imprese, quindi va ridistribuito meglio e va dato la possibilità a tutte le imprese di poter poi avere questi fondi comunitari. Sullo stato di salute dell'agricoltura regionale è intervenuto il coordinatore di Agri Insieme Alfonso Di Massa. È stato un anno ricco, non ci siamo fatti mancare niente, dall'approvazione del PSR alle calamità. Agri Insieme Campania si è adoperata per affrontare tutte queste sfide che sono arrivate in questo anno nella maniera più costruttiva e operativa possibile. Ovviamente nel proseguo cerchiamo di continuare su questa strada grazie anche alle risposte che le istituzioni ci hanno dato.